E' facile, e' facile! Io ero dimenticata che c'è un O che l'O 2 in 1 Guarda quanto so la metto! Cosa faccio? No, 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 no. Tante ragazze che stanno facendo male là davanti, tantissime. Tu adesso stai dentro, stai vivendo questa roba di Stanna Male. Si chiama Valdez? Valdez. Valdez.